La stagione è partita, è scoppiato il caldo, domenica abbiamo avuto un pienone in tutta la costa abruzzese, ho riscontrato notevoli presenze, chiaramente stiamo combattendo anche un'altra questione. I consumi sono calati perché non è dovuto al fatto che i prezzi degli ombrenoni sono esagerati e che il carovita che gira in tutta la settimana purtroppo ha messo in crisi tante famiglie. Comunque al mare vengono i bambini, vengono le famiglie, le prenotazioni sono arrivate, ci sta un turismo vacanziero che è tutto weekend, ma durante la settimana possiamo dire per le città di Francavilla, oggi noi siamo a Francavilla, le città di Francavilla, Montesilvano, Pescara, buona parte dei bagnanti, circa il 70% dei bagnanti sono prettamente quelli locali. Le presenze turistiche noi le abbiamo riscontrate nella zona di Vasto, San Salvo, Fossacesa, cioè la parte della costa dei Trabocchi ha avuto un grande successo e la zona nord della costa blu che da Silvi ad Alba Triatica ha un notevole incremento di turisti non vacanzieri, non weekendali. E quindi questa è la riprova che l'Abruzzo più anni passa, più viene scoperto e più piace a tutti gli utenti. Noi come categorie balneari stiamo cercando di fare il possibile per mantenere in piedi questa unione tra la vacanza alberghiera e la vacanza balneare, però è chiaro che dobbiamo incominciare a pensare che dobbiamo promuovere sempre di più il nostro territorio perché basta farlo conoscere, basta farlo visitare a chi viene da fuori e che si innamora dell'Abruzzo e di tutti i 140 km di costa. Le stagioni sono cambiate, noi che siamo abituati a fare il mare dopo Pasqua, quindi parlo delle cittadine rivierasche, le nostre, dove la presenza dei bagnanti iniziava da dopo Pasqua, purtroppo quest'anno il maltempo ci ha fatto partire il ritardo, però ancora una volta voglio essere positivo, pensare ai colleghi romagnoli che hanno avuto quelle tragedie durante il periodo di maggio, quindi noi diciamo andiamo avanti, cerchiamo di valorizzare, l'unica industria che funziona in Italia è l'industria del turismo, se questa non viene ascoltata, la politica ci deve ascoltare, a volte non sa ascoltare.